And hi guys, I'm Hendrix and today come potete vedere siamo qui su un server per minecraft 1.8.8 Allora intanto mettiamoci la fly che così vi faccio vedere un po' di cose Allora questo è un server sky pvp quindi si combatterà Come potete vedere ancora ci stiamo lavorando Infatti come potete vedere io ho ancora la skin di Steve Allora intanto questo qui è lo spawn Come potete vedere si chiama Italian Gamers Ovviamente se per quando uscirà questo video sarà uscito il server vi lascerò l'IP Quando uscirà il server uscirà anche l'IP sotto a questo video Quindi se non c'è l'IP aspettate qualche giorno e ci sarà l'IP anche qualche ora magari Questa qui è la mappa molto molto semplice Devo dire che non è che mi piaccia tanto però vabbè ci può stare Qui ci saranno tutti i kit intanto questo qui è il kit pirata Come potete vedere aquafinity, blast protection 4 Vabbè è un kit abbastanza base E proviamo a fare una cosa Cioè scendiamo e andiamo a combattere contro Platon Che ha mangiato una mela d'oro e la mangerò anch'io Perché si E combattiamo con Platon che come potete vedere mi sta sparando qualcosa che non so cosa sia Ah perché c'è la K47 Ora anche io sparo però non ho più colpi Lui mi viene ad attaccare e sono morto Ha fatto un bellissimo combattimento Riproviamo Io scendo Non facciamogli capire che sto scendendo Dov'è Platon Non c'è più Platon Sì che è lì Platon Io faccio così Tac Tac Vado da sopra Lo spado e l'ho ucciso GG Perché sono troppo forte E vabbè Ho usato la fly però Vabbè Vabbè Regà Io vi ringrazio per la visione Questo è un server molto semplice Dove ci saranno appunto I pvp Ci sono i vari kit da comprare I vari vip da comprare Ancora non ci sono prezzi Però ci saranno Vedete qui ci sono i libri incantati Qui ci sono le armi C'è la flashbang La deagle La type 95 Il server ci saluta Noi diciamo ave Perché non scrivo ave bene Qui ci sono le armi Che è ancora un po' Buggato Vedete qua c'è La diamond sword L'iron sword Costano dell'oro Qui ci sono le apple Le apple Vedete qua c'è tutto il cibo Qui ci sono le armature E niente È tutto qui Vedete Per ora c'è il limite Di 100 giocatori Appena potrò Aggiornirò Il server Per farci entrare Più giocatori Ovviamente starà a voi A darmi le vostre mani Cioè nel senso Mi dovrete dare una mano Per far conoscere Questo server Che devo dire È molto Molto Non laggante Io vi ringrazio Per la visione Vi ricordo come sempre Di lasciare un mi piace Condividere Commentare Se vi è piaciuto il video Lasciate un mi piace Ovviamente Perché l'ho già detto Lasciate un mi piace Però vabbè Vi ricordo In descrizione trovate Il server Quindi l'IP del server Se volete andare nel server Potete andarci Dall'IP che c'è In descrizione Questo video uscirà Sabato alle 10 di mattina Quindi Prevedo Che sarà già aperto Spero almeno Che sarà già aperto Hendrix chiude Ciao a tutti Ciao a tutti